Si è appena conclusa questa manifestazione qui a Buccino per la presentazione di questo libro Veleni. Prendiamo un pochino dei contenuti e della serata. Allora, ho intrecciato tre morti misteriose, da sempre misteriose nella storia italiana. La morte di Enrico Mattei, caduto a Bascapè in provincia di Pavia con il suo aereo, si è sempre detto che era stato un incidente. La versione ufficiale, voluta anche dal nostro governo, era quella. Da un'inchiesta della procura di Pavia, recentissima, ma mai seguita dalla stampa, che è passata davvero in sordina, si è scoperto che sull'aereo di Mattei era stata messa una bomba. Una storia che non è mai stata raccontata bene dalla grande stampa. Ho intrecciato la morte di Mattei con la scomparsa di Mauro De Mauro, un giornalista di origini foggiane, ma scomparso a Palermo. Lavorava per l'Ora, che era un giornale d'assalto finanziato dal Partito Comunista. Si stava occupando, per conto del regista Rosi, dell'incidente in quel momento, la versione era quella, dell'incidente su Mattei. Scompare, si vuole, per mano della mafia, non si è più saputo nulla. Alla fine queste due storie si incrociano con un altro giallo, che coinvolge Pasolini, Pierpaolo Pasolini, che si stava occupando di una faida violenta all'interno dell'ENI, e io per questo il libro l'ho intitolato Bel Eni, tra Enrico Mattei ed Eugenio Cefis, che era il suo vice. Il capitolo di Petrolio, il libro di Pierpaolo Pasolini, scompare. I pasoliniani, gli studiosi Pasolini, vogliono che in quel capitolo, che era intitolato Lampi sull'ENI, Pasolini si stesse occupando proprio, diciamo, dello scontro cruento tra Mattei e Cefis. Questo capitolo ricompare, diciamo così, per un racconto del senatore Dell'Utri, che a un certo punto convoca una conferenza stampa e dice ai giornalisti, io l'ho maneggiato, l'ho visto, l'ho letto, però non ne ha mai raccontati i contenuti, poi è finito nelle patrie galere, io mi, come dire, ripropongo di contattarlo alla sua uscita per farmi spiegare la parte finale di Veleni. A volte è un pochino delicato parlare di questi temi, a volte è anche pericoloso. Beh, diciamo che il giornalista si accorge che un caso è diventato pericoloso e spinoso soltanto quando lo ha portato ormai alla ribalta. Di solito quando mi tuffo nelle storie c'è talmente curiosità e di interesse che non ti rendi conto di dove stai mettendo le mani e dove vai a finire. Te ne accorgi una volta che poi è uscito fuori. Perché leggere questo libro? Beh, intanto racconto una storia che è stata raccontata soltanto in parte. Sono vicende che sono state narrate e ricostruite non soltanto da me, se ne sono occupate anche dai maestri di giornalismo. Ad esempio la morte di Mattei è stata ricostruita da un davvero un grandissimo giornalista che è Enzo Biaggi che all'epoca fece una vera inchiesta giornalistica, cioè non lavorò su atti giudiziari ma lavorò solo su sue fonti. Successivamente hanno intrecciato i tre casi di cui mi sono occupato io anche i colleghi del Fatto Quotidiano, Sandra Rizza e Peppino Lobbianco. La mia fortuna è stata quella però di arrivare quando l'inchiesta della Procura di Pavia era ormai finita e gli atti erano stati depositati. In quegli atti ci sono dei verbali inediti, ad esempio il verbale di Francesco Rosi che non è mai stato pubblicato, lo pubblico io per la prima volta, dove Rosi ammette per la prima volta che il film su Mattei, il caso Mattei, è stato finanziato da Leni di Jeffis che era l'antagonista di Mattei.